Due partite in due giorni, ma sicuramente l'opportunità per tutti voi di mettere minuti nelle gambe. Sicuramente sono stati due test importanti, ci permettono di allenarci e di iniziare a provare le cose in campo. Per il momento difesa 3, ti è più congeniale, meno congeniale, cosa ti piace di più? Non ho un modulo preferito, diciamo che sono più le idee e i concetti che uno sposa dove si può trovare meglio o peggio. In questo caso io mi trovo bene, l'idea è quella di essere sempre aggressivi, di andare in avanti. Sono concetti che a me piacciono e penso che li porteremo avanti nel corso della stagione. Dopo l'esperienza che ti ha rifatto mettere tanti minuti nelle gambe con la spalla, adesso torni all'ospedio, è sicuramente la tua meta gradita. Sì, sicuramente sono molto contento di essere tornato e spero di poter dare ancora tanto a questa maglia e società. Rispetto a questi giorni di ritiro, nuovi compagni, come ti stai trovando, che ambiente c'è? C'è un ambiente piacevole, i compagni più o meno li conosco tutti, sicuramente si sta bene. Abbiamo passato queste due settimane, ne abbiamo ancora un'altra in modo piacevole, tre di noi, quindi si lavora bene e c'è una buona coesione. Dimmi due parole su Mr. Gott. Il Mr. sta cercando di spiegarci il suo calcio, piano piano ci arriveremo, abbiamo tanto da lavorare, ma siamo tutti a disposizione per esprimere al meglio le sue idee. Un bilancio dopo queste tre amichevoli? Sicuramente positivo, sono le prime, quindi c'è ancora tanto da dare, dimostrare, fare, provare, quindi penso che siamo sulla strada giusta. Da parte tua c'è sempre stato verso te un grande affetto da parte dei tifosi, questo ti fa piacere? Sì, sì, mi fa super piacere, l'affetto è ricambiato, sono legatissimo alla città, ai tifosi, alla società e mi fa solo che piacere. Grazie Eli. Grazie.